Pam, pam, pam Pam, pam Ragazzi siete meravigliosi Stamattina Sono scadute così tante iscrizioni Che è bellissimo vedervele Grazie Nooo Buono Questo però Ma che cosa Ok Ma che cosa Cazzo era Ma Ciao Ciao Potremmo chiedervi una cosa Nulla puoi contro la cacca Poco danno poco tutto Nemici erratici piccoli veloci Tanti Ah che pizza Che palline Ma io devo ordinare la pizza Io devo ordinare la pizza Ragazzi Sto registrando e facendo troppo in questi giorni Ragazzi non ci sono più Ho bisogno di Pistacchiona La pistacchiosa? Una signora pizza? Assolutamente pistacchiona Io devo sbirciare Io sbirciare E' No A No No Ma No Grazie a tutti